. Ed eccoci qua di nuovo amici di Magenta, amici di Corvette, amici di RCM 104, buongiorno e bentornati a Pillole di Storia, buongiorno, lo diamo soprattutto anche a lui il condottiero di questa trasmissione, il nostro Andrea Balsarotti, ciao Andrea. Buongiorno a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori. Allora Andrea sei pronto? Prontissimo. Cosa ci porti oggi? Oggi siamo a Corbetta, siamo ancora a Corbetta e parliamo di un monumento corbettese vanto del nostro paese, una villa storica, Palazzo Brentano, quella che abbiamo definito la Versailles corbettese. È un monumento molto particolare, un luogo simbolo della nostra città che oggi andremo un po' a riscoprire attraverso la storia, la sua storia e la storia della famiglia che l'ha voluto, che è la famiglia Brentano. Oggi molti lo conoscono perché è sede della scuola dei padri Somaschi ed è conosciuto anche sul nostro territorio, però in realtà noi oggi quello di cui parleremo appunto è la struttura, la storia, quello che c'è dietro, perché queste pietre raccontano la storia anche di uomini, quelli che l'hanno costruita, quelli che l'hanno voluto e l'impatto che ha avuto questa struttura su tutto il nostro paese di Corbetta. Siamo nella prima metà del 1700, attorno al 1731 e Palazzo Brentano all'epoca non c'è ancora. In realtà quello che a noi colpisce di più oggi è pensare, quando arriviamo davanti a Palazzo Brentano, si trova in via San Sebastiano, quindi a due passi dalla chiesa parrocchiale, è un palazzo enorme nel contesto di una città, tutto sommato contraddistinta dal centro storico con delle case basse, quindi una situazione che anche nel 1700, quando questo enorme palazzo è sorto, appunto non era molto diversa, la città era piuttosto piccola all'epoca, quindi immaginatevi cosa vuol dire a un certo punto aver piazzato questo enorme palazzo in un contesto per lo più di una cittadina contadina di provincia e adesso scopriamo anche il perché a un certo punto è arrivata questa struttura e cosa ha voluto dire appunto per il nostro paese. Dicevo, quello che oggi è uno dei principali monumenti del barocchetto lombardo, quindi di tutta la Lombardia, in realtà nel 1731 non c'era. Al suo posto c'erano delle piccole casupole, per lo più faticenti, con delle aree agricole e retrostanti, che erano di proprietà del marchese Ferrante Villani Novati. Un personaggio un po' particolare, era stato un feltmarsiale imperiale, era stato comandante della cittadella di Mantova nel 1738 ed era soprattutto una persona particolarmente ricca. La sua caratteristica era quella di provenire da una famiglia molto ricca, molto importante, non tanto i villani novati, quanto gli altri suoi parenti, cioè per esempio tra i suoi antenati vantava anche Gonzaga, quindi... Il signore di Mantova. Esatto, quindi insomma per dire una famiglia principesca anche di una certa influenza. Lui in realtà era molto ricco di famiglia in origine, ma nel 1731 le sue fortune si stavano assottigliando. Questo probabilmente a causa di una serie di spese sostenute, fatte senza rientri dovuti e quindi alla fine il suo patrimonio stava... Senza oculatezza. Esatto, esatto, proprio senza oculatezza. Aveva questi possedimenti non perché li avesse comprati o perché fosse interessato a Corbetta, anzi lui viveva a Milano. Li aveva semplicemente ereditati dalla madre, che era Isabella Talenti Fiorenza, la quale a sua volta era imparentata con altre casate e aveva ottenuto nel tempo quest'area, questa fetta di Corbetta. E oltre a queste case e questi terreni vantava su tutto il territorio corbettese 2652 pertiche di terreno. La pertica è una misura agricola che si usa ancora oggi, sono 652,54 metri quadrati la pertica corbettese. Le sa tutte! Le sa tutte! Qui viene fuori lo spirito contadino, eh, diciamo la verità. Te vis che roba no! Perché, dico la pertica corbettese perché questa è una caratteristica un po' singolare, magari non tutti lo sanno, è giusto dirlo, il valore di quella che era l'unità di misura prima dell'introduzione del sistema metico decimale, quindi siamo alla fine del Settecento, era variabile da zona a zona, se non addirittura da comune a comune. Ecco perché dico la pertica corbettese, perché già a Magenta il valore era diverso, quindi leggermente diverso. Cambia da comune a comune. Esatto, cambiava addirittura da comune a comune. Poi c'erano alcuni comuni che l'avevano... Adesso si è unificato. Esatto, adesso abbiamo, quando uno dice un metro, un metro quadrato è un metro quadrato per tutti. Quindi addirittura dovrebbe essere così in tutto il mondo, anche se come sempre gli inglesi magari fanno eccezione. Beh vabbè, se li puzza anche l'alito per cui vuole dire. Però, ecco, all'epoca c'era una divisione in questo senso. Quindi 2652 pertica, veramente tanti tanti terreni. Lui cosa fa? Pian pianino questo enorme patrimonio che ha accumulato cerca di venderlo, perché si rende conto che ha bisogno di denaro e incontra sulla sua strada un certo personaggio che è Giuseppe Brentano. Giuseppe Brentano, che è un uomo molto particolare perché è appena arrivato in Lombardia, è un uomo novus, come lo chiamavano all'epoca, cioè un uomo nuovo, una persona nuova in società. Sostanzialmente molto ricco, però di recente nobilitazione, in quanto il padre... Cioè ha appena ricevuto il titolo nobiliare. Esatto, esatto. Era conte di Caltignaga, Caltignaga Novara, quindi qui vicino. Vabbè, quattro case. Esatto, non era un grande... Non è che possiamo dire di chissà chi, voglio dire. Esatto. C'erbrentano, voglio dire, con tutto il rispetto. Dai, Caltignaga, Quattro Arfie. Esatto. E finita lì. Ma perché, anche qui c'è un motivo, quando proprio parliamo di titoli nobiliari e di feudi, noi dobbiamo sempre tenere presente l'entità di cui stiamo parlando. Era così esigua perché in fin dei conti, dicevo, la sua ricchezza era un fatto anche recente. Il padre, che aveva ottenuto il titolo per primo nel 1715, nei resoconti dell'epoca, viene definito mercante di tela, del bottegaro di tela del Cordusio. Cioè, il padre era un mercante. Che a un certo punto si era arricchito trattando di tela ma anche di pellami, attraverso, ottenendo delle commissioni per l'esercito austriaco. E qui. Esatto. E qui. Ecco. Non andiamo a rimestare il pentolone. Esatto. Ne avremmo da dire anche qui. Le forniture per l'esercito, sappiamo bene come funzionava all'epoca, e quindi, insomma, riesce ad ottenere un discreto patrimonio, tale per cui, alla fine, si compra, perché all'epoca così si faceva, si compra il titolo nobiliare. Ovviamente il figlio, Giuseppe Brentano, morto il padre, eredita questo titolo, però tutti sanno come hanno fatto i Brentano a ottenere questo titolo. Non hanno avuto vanti particolari, non hanno avuto meriti, non sono stati degli eroi di guerra, non hanno fatto nulla di particolare. Però a questo punto, che cosa succede? Lui ha necessità di lavarsi di dosso quest'onta, cioè di togliersi... Un po' come tutti sanno oggi come ha fatto vincere tutti quegli scodetti da Juventus, ad esempio, la stessa cosa, no? Più o meno. Va bene, Andrè, chiedo scuola. Effettivamente. No, tu giustamente non ti pronuncio, l'ho detto io, va bene, ok. No, questo era un problema non da poco, perché Giuseppe Brentano cercava di inserirsi nell'altra società, alla Corte di Milano, però tutti dicevano, ah, questo è quello che ha comprato il titolo. E non riusciva a togliersi di mezzo questo problema. Allora, il titolo non poteva rinunciare. Il titolo di Conte già gli era costato parecchi soldi. Voglio dire. Quindi, insomma, era comunque un qualcosa di cui andare fiero. Quindi aveva la necessità di emergere. A un certo punto, lui ha il denaro, ha la necessità di emergere. Dall'altra parte, Ferrante Villani Novati non ha denaro e ha bisogno di guadagnarlo in qualche maniera e ha dei possedimenti che vuole vendere. Ecco che la copiata vincente alla fine trionfa e i due si incontrano, si mettono d'accordo e il 10 settembre 1731 viene formalizzato l'acquisto dell'area delle case e dei terreni agricoli retrostanti. Sostanzialmente, il Brentano paga sull'unghia. Il Ferrante Villani Novati è contentissimo di lasciare Corbett col suo buon gruzzoletto guadagnato. E che cosa fa il Brentano con le case che si trova? Che le case che erano regolarmente affittate, quindi per quanto belle o brutte fossero, di fatti erano a posto. C'erano delle persone. Dice a tutti di punto in bianco bene, ve ne andate fuori di qua. Cioè, prendi i suoi affittuali. Ha rinunciato, ha acquistato, rinuncia la rendita. Esatto, per fare cosa? Esatto, per radere tutto al suolo. Questa è una cosa che... Ma a Caltiniaga avevano un buon vino. E vedi, questo è il motivo per cui... Guarda che Caltiniaga è vicino a Gemme, per cui sai i vigneti di... Invece, per il vino è una zona altro che più che rinomata, direi. No, non ho capito. Cioè, lui prende queste case. Paga sull'unghia. Esatto. Acquista tutto quanto. Quando, ovviamente, eredita i contratti che erano in essere, le persone che si trovano all'interno, stanno lì qualche... il paese, proprio perché il Ferrante Vilani Novati negli anni non aveva fatto niente. Posso fare una domanda? Dimmi. Ma non è che questo Ferrante Novati gli ha tirato un bel pacco, come si diceva oggi? No, diciamo che lui era convinto di aver trovato qualcuno che lo sostituisse sostanzialmente. non sapeva il progetto che il Brentano aveva in essere di lì a poco. Però io credo che questo signor Novati alla fine sapesse in che condizioni erano queste case. Sì, sicuro. Di quello che si diceva in paese, penso che fosse corrente. Certo. voglio costruire il mio nuovo palazzo. Lui risiedeva a Milano, aveva una residenza, ma la residenza in campagna, si sa, era di norma quella più importante, perché era il luogo dove socializzare, dove fare le feste, dove accogliere gli ospiti. E ha in mente un progetto che è grandioso. Dice, qui dentro farò la mia regia di Versailles. Tipo anche molto modesto, no? Sostanzialmente. Lui aveva il denaro per poterlo fare e dice, qui ho bisogno, il terreno ce l'ho, ho lo spazio anche per crearmi un buon giardino. Il paese mi sembra ottimo, perché Corbetta, lui apprezzava molto il fatto che fosse non distante da Milano e non distante da Caltignaca, quindi fosse più o meno a metà strada, diciamo, tra i due punti suoi di interesse. E a un certo punto, dice, bene, mi manca solo l'architetto. Chi vado a prendere? Beh, ovviamente, avendo il denaro necessario va a rivolgersi a Francesco Croce, che era uno degli architetti emergenti più in vista di Milano, era quasi quarantenne, e diventerà poi di lì a qualche anno l'architetto di riferimento della fabbrica del Duomo di Milano. Quindi non il primo architetto. Ah, però mi verrebbe da dire. Esatto. Ha progettato molti palazzi a Milano, per esempio la biblioteca, il palazzo Sormani, quella che oggi è la sede della biblioteca Sormani, ma anche, per esempio, la guglia maggiore del Duomo di Milano, quella dove si trova la Madonnina. Addirittura. Quindi, un architetto di tutta importanza, di tutto rispetto. E a un certo punto, diciamo così, l'architetto Croce si porta sul sito prima della demolizione e vede queste case, dice, insomma, qui è necessario fare piazza pulita, non possiamo pensare di costruire un palazzo con queste case. In realtà, studi recenti di qualche anno fa, in realtà, hanno evidenziato che forse, forse, non venne abbattuto tutto, tutto. Qualcosa venne recuperato, probabilmente, anche del materiale demolito, il materiale da costruzione, venne riutilizzato, forse per costruire alcune parti del palazzo. Mi ricordo una vecchia storia di Corbetta. Esatto, sempre una storia come nel caso del Campanile, no? Guarda caso. Esatto, perché dove si poteva, insomma, si faceva un po' di economia, anche perché alcune strutture erano veramente in condizioni pessime, qualcun'altra invece si salvava, quindi poteva essere riutilizzata, poteva servire da base. Qualcuno dice che forse il Villani Innovati aveva forse lì anche un abbozzo di palazzo, una casa, qualcosa, che forse sarebbe servito poi come base per la costruzione del palazzo che possiamo vedere oggi, però noi di fatti non abbiamo nulla di quello che, diciamo, di situazione fotografata di quello che c'era in precedenza. Quindi sappiamo che a un certo punto il croce incomincia i lavori. Siamo nel 1732 e inizia con la maestranza locale, quindi ancora servendosi dei buoni muratori di corbetta, a fare piazza pulita. Succede che nel 1733 arriva un evento inaspettato che blocca tutto e rischia di interrompere per sempre la costruzione di questo palazzo. infatti il re di Sardegna Carlo Emanuele III nel 1733 nell'ambito della guerra di successione polacca che è un fatto europeo, in realtà lui non sapendo cosa fare, avendo colto l'opportunità di quest'Austria che reggeva il Ducato di Milano impegnata su più fronti dice ma perché non proviamo finalmente a fare un'Italia unita? è il primo siamo nel 1733 quindi oltre un secolo prima la battaglia di Magenta lui prova nell'impresa dice vado a conquistare Milano tutti lo deridono perché Carlo Emanuele III di Savoia era un governante che aveva sicuramente tante doti ma certamente non quelle militari anzi aveva avuto un'educazione militare molto sommaria però aveva un buon fiuto come potrebbe essere un ottimo essere stato un ottimo amministratore delegato di una società perché aveva buon fiuto nel individuare le persone chiave di cui circondarsi e quindi lui sceglie durante la sua esperienza di governo di circondarsi prevalentemente di generali di persone che la guerra la conoscono e la praticano bene infatti quest'impresa della conquista di Milano stranamente e così improvvisamente gli riesce lui dal 1733 al 1736 quindi per tre anni riesce a tenere in scacco il capoluogo lombardo e difatti diventa parte di quello che era il ducato di Savoia quindi la parte confinante il monferrato la parte confinante con la lombardia questo fatto che è un fatto storico anche se forse poco conosciuto difatti è un fatto tragico per il Brentano perché il Brentano si trova fregato sostanzialmente cioè il feudo di Caltignaga viene requisito dai Savoia e quindi lui perde il feudo e perde tutte le rendite annesse non perde il titolo gli rimane a livello onorifico ma di fatti le rendite le perde e poi soprattutto questi Savoia gli dicono ma tu per caso non sai quello che fa il tesoriere per conto dell'esercito austriaco e lui non può negare lo conoscono tutti dicono guarda noi capiamo che tu non hai voluto sei stato costretto a fare questo questo ruolo lo capiamo no? e quindi a me quando uno dice così non so come mi dice sento che sta arrivando qualcosa da qualche parte allora gli dicono no non ti arrestiamo non ti condanniamo assolutamente però ci paghi una piccola multa e già lì e già lì le multe cominciavano a viaggiare esatto questa piccola multa il Brentanno a cuor leggero dice sì sì non c'è problema lasciatemi libero lasciatemi vivo lasciatemi dire la cifra soprattutto della multa prima lui dice sì e quegli altri dicono benissimo lo mandano quasi in rovina nel senso che questa multa stratosferica l'ho detto che da qualche parte arrivava la fregatura c'era voglio dire quindi lui nel giro di questi tre anni deve sborsare una cifra esorbitante e devo dire che è tra i primi a dosannare poi il ritorno degli austriaci perché nel 1736 e te credo con quello che gli ha impiegato con i laurei esatto alla fine quando però anche il governo austriaco gli dice ma perché hai pagato la multa ai Savoia non dovevi dire tu dovevi dire di no dovevi opporti e lui dice no adesso mi arriverà mica un'altra multa anche dagli austriaci allora gli dicono no vabbè la multa non te la diamo esatto anche perché ormai esisteva già quel periodo la vaselina chiedo per un amico esatto sai com'è e quindi insomma alla fine viene graziato in questo stato viene ripristinato nel suo ruolo dagli austriaci e sostanzialmente dal 1736 al 1738 riesce a completare seppur con qualche difficoltà la struttura nel 1738 i lavori sono terminati e diciamo che sono terminati anche i soldi nel senso che il Brentano da questa impresa ne ha avanzati ben pochi innanzitutto ha voluto costruire un palazzo fuori misura che l'ha impegnato tantissimo scegliendo un architetto già costoso in più c'è stata questa multa di mezzo insomma diciamo che le sue finanze erano parecchio in pericolo che cosa qual è la fortuna del Brentano che a un certo punto muore quindi si è tolto dai giochi rientra in gioco il figlio che si chiama Carlo Giuseppe e erede della fortuna del padre muore il padre che si chiamava Giuseppe Carlo Giuseppe il figlio esatto il quale ha una una fortuna diciamo riesce di famiglia il nonno era Antonio quindi erano sicuri esatto ecco dicevo Carlo Giuseppe Brentano inizia innanzitutto a razionalizzare le spese fare un po' di economia e soprattutto a guadagnarsi la fiducia di personaggi importanti prima di Maria Teresa e poi del figlio Giuseppe II quindi gli imperatori d'Austria Giuseppe II poi lo nominerà anche suo consigliere privato quindi riesce a rimontare un po' la situazione ma memore riesce a correggere un pochettino esatto più che altro a recuperare il denaro perché ha questa fabbrica che questo palazzo finito vuoto lui vorrebbe anche andarci ad abitare ottima la mossa esatto si piazza bene sicuramente ha ha giocato bene le sue carte è riuscito poi a ottenere sì diciamo che riesce a ottenere un buon stipendio sostanzialmente che gli consente di finire i lavori e inizia un'azione pubblicitaria senza precedenti lui ha questa struttura la deve far vivere deve farsi conoscere e contatta anche in questo caso un diciamo un personaggio che era conosciuto nel settore Marco Antonio dal re era un incisore bolognese che lavorava tantissimo per Milano e ha fatto un libro proprio in quegli stessi anni che si chiamava Ville e Palaggi Campareggi sostanzialmente lui ha preso le principali ville storiche della zona e ha fatto delle incisioni cioè delle raffigurazioni dei disegni di quello che dovevano essere e così fa anche per Corbetta poi questo libro lui lo pubblica lo vende quindi più sempre più persone lo vedono vedono questo palazzo e si lasciano affascinare dalle soluzioni trovate dal croce Marco Antonio del re ha un piccolissimo problema forse anche su diciamo spinta del proprietario si inventa un sacco di cose il palazzo è vero è finito ma è vuoto il giardino è un campo coltivato lui invece ci fa crescere piante labirinti fontane che cosa si inventa? tutto praticamente cioè la struttura è esistente ma la parte del giardino praticamente è inesistente lui ci inventa fontane labirinti ma poi le attua quindi? no di fatti è tutto solo sulla carta è un grande progetto immaginario un grande progetto pubblicitario che il Brentano commissiona serve per per attirare l'attenzione per stupire per sperare che qualcuno possa interessarsi a lui possa dargli delle altre commissioni lui possa guadagnare sempre di più e possa farle queste cose uno che vede il palazzo vuoto esatto poi si rende conto esatto allora inizia a fare qualche lavoro in più con i soldi che guadagna si rende conto che la prima cosa da fare è incominciare a sistemare gli interni del palazzo quindi predispone dei pittori che vengano a fare appunto delle decorazioni all'interno delle sale avrebbe voluto tampinare il Tiepolo il quale stava lavorando a Milano a Palazzo Clerici Giovanni Battista Tiepolo è uno dei principali artisti del Settecento però quando sente le richieste del Tiepolo le richieste economiche insomma si rende conto che forse però è uno di quelli più quotati esatto lui stava lavorando a Milano stava lavorando per i clerici però a un certo punto lui dice no vabbè il Tiepolo è un po' troppo costoso allora chiede a qualcuno qualche altro pittore noi oggi li definiamo tra virgolette minori ma minori non sono perché sono dei pittori che hanno realizzato magari in quel momento erano ancora in erba esatto in quel momento stavano incominciando a fare qualche lavoro tra questi abbiamo Giovanni Angelo Borroni Mattia Bortoloni Giuseppe Pellegrini Ferdinando Porta che per esempio il Porta aveva lavorato per la chiesa di Sant'Ambrogio a Milano quindi un pittore che si stava qualificando anche nell'arte sacra Giovanni Antonio Cucchi e Giovanni Battista Sassi questi vanno a realizzare alcuni dei dipinti che ci sono ancora oggi e li realizzano nelle sale di rappresentanza cioè non tutte le sale della villa vengono affrescate vengono affrescate quelle strettamente necessarie quelle più belle esatto quelle che il pubblico vedeva e quelle che erano di rappresentanza quindi le sale chi stabiliva quale erano il padrone di casa quindi ovviamente e quindi lui diceva no attenzione quanto mi costa quindi cominciava a fare tutti dei conti proprio sulle spese da sostenere però scegli anche i temi il padrone di casa e questo dimostra anche l'attenzione all'arte alla cultura dello stesso Brentano arte e cultura che in quell'epoca si traslano ovviamente nella raffigurazione di episodi della mitologia quindi sono quasi tutte le figure che vediamo tratte dal mito greco però lui alla mitologia affianca le vicende personali della sua casa per esempio lui fa un bellissimo affresco che si trova nel salone centrale a piano terra ancora oggi che si intitola Ercole annoverato tra gli dei allora il mito racconta che Ercole dopo aver fatto le dodici fatiche viene sostanzialmente accolto in mezzo agli dei è come uno di loro ecco l'Ercole raffigurato sull'affresco alle fattezze del padre di Carlo Giuseppe Brentano direi che adesso poi andiamo nella seconda parte e procediamo alla diciamo così alla spiegazione di tutte queste belle curiosità curiosità che hai sollevato non è sollevato una sola noi andiamo prima per ascoltarci prima della pausa dove ci stanno i consigli dei nostri sponsor andiamo ad ascoltarci un bel disco un disco che arriva da un gruppo che arriva da molto lontano dagli anni 80-90 se vogliamo andare a vedere però è un rifacimento è un disco davvero recentissimo sto parlando di Simple Mind che nel 2022 ci vengono a proporre Vision Thing buon ascolto ed eccoci già nella seconda parte della nostra trasmissione Palazzo Brentano quest'oggi trattiamo questo argomento insieme al nostro amico storico per eccellenza lo storico per eccellenza è sempre lui Andrea Balzarotti ciao Andrea ciao Gianluca di nuovo buongiorno a tutti siamo pronti per partire già con ti vedo bello mordente abbiamo lasciato la prima parte che stavamo un po' descrivendo i lavori fatti da Carlo Giuseppe Brentano nel palazzo e eravamo arrivati appunto al punto degli affreschi che è una parte fondamentale forse di tutto il palazzo dicevo c'è questo affresco particolare dove il pittore ha voluto proprio su commissione del Brentano inserire il volto del padre questo parallelismo tra Ercole che dopo aver fatto le dodici fatiche viene assunto tra gli dei cioè assurge tra gli dei ma mi sembra anche giusto perché uno che si chiama Giuseppe Brentano e viene assoluto dal figlio che si chiama poi Carlo Giuseppe voglio dire mi sembra giusto che ci ricordi in parte lui dice il padre mio padre che ha tanto faticato per costruire questo splendido monumento voglio che sia ricordato all'interno di questo dipinto e così il parallelismo tra Ercole che va tra gli dei e così è il Brentano che viene appunto a qualificarsi tra i personaggi più influenti della corte austriaca a Milano un altro affresco interessante si trova sullo scalone d'onore sappiamo che nelle ville lo scalone d'onore è il biglietto da visita è il punto principale perché è un punto di attraversamento e tra gradini di granito e una bellissima ringhiera di aree in aria lavorata abbiamo sul soffitto un affresco realizzato dal Pellegrini con una lungo titolo si chiama il merito coronato dalla giustizia e dall'opulenza magnificato dalla fama e dalle scienze il merito questa figura che viene incornata è ancora una volta chi? il merito di Giuseppe Brentano di aver costruito questo splendido palazzo quindi un po' anche degli affreschi autocelebrativi devo dire la verità un po' me l'aspettavo e beh non tantissimo ma un cuor mio qualcosa mi diceva che esatto e poi Carlo Giuseppe si rende conto che è necessario incominciare a realizzare anche il giardino insomma questo giardino di cui tanti parlano che il darei si è mezzo inventato a un certo punto qualche forma bisognerà pur dargliela e incomincia con realizzare un piccolo boschetto che ancora oggi esiste difatti anche se molto mutato rispetto al progetto iniziale che si trova subito dietro il palazzo veniva chiamato giardino di frescura perché era un giardino coltivato con piante che poi diventavano grandi e fornivano l'ombra la frescura necessaria appunto per poter rimanere in giardino anche durante le ore più calde della giornata si scelgono per questo delle essenze arboree molto particolari dal cielo del Libano al bagolaro al pino strobo alla forcizia palme cinesi il calicanto l'ibisco quindi c'è un insieme di piante soprattutto esotiche che vengono dall'altra parte del mondo e anche queste servono soprattutto per stupire i visitatori lo scopo è sempre quello di far conoscere cose nuove un'epoca in cui non ci sono enciclopedie non c'è internet non c'è niente di quello a cui noi oggi siamo abituati a ricorrere quando non conosciamo qualcosa ecco lui fa di questo suo piccolo giardino un viridario viene chiamato cioè un luogo dove appunto vengono raccolte diverse essenzierbore che hanno queste capacità di mostrare al suo pubblico il suo pubblico quello degli ospiti suoi privati quella che è la potenza e anche ovviamente la ricchezza ancora una volta della famiglia perché si può permettere delle essenze che dalle nostre parti non crescono a un certo punto e siamo negli anni sessanta del del settecento i lavori sembrano essere ormai terminati quindi sostanzialmente il Brentano può inaugurare per così dire la propria la propria residenza e lo fa in una maniera piuttosto singolare nel senso che interessa l'alta corte austriaca di questo suo progetto comincia a vedere se qualcuno ha intenzione di venirlo a trovare insomma certo sa che è una spesa ingente giustamente c'è un piccolo giardino esatto proprio da ecco e tra i personaggi perché non sfruttarlo Andrea infatti infatti lui dice facciamo delle feste facciamo dei momenti di socializzazione per far vedere quanto sono bravo quanto sono ricco mostrare i muscoli esatto e far vedere un po' quindi l'intento rimane ancora quello del padre no? e da qualcuno pur preso infatti infatti perché ancora c'era il problema del feudo di Caltignaga quindi cioè no sostanzialmente ancora tutti dicevano eh ma questo qui è quello che si è comprato e il titolo da Caltignaga ci mandano il meglio esatto allora al fine lui dice no devo venire lì non è fuori bene allora spara veramente alto e siamo alla fine del settecento siamo nel 1789 la corte diciamo austriaca Milano si sta portando ad accompagnare una fanciulla di casa che andrà in sposa a un certo duca da Osta all'epoca che poi diventerà Vittorio Emanuele primo che sarà un sovrano piemontese il quale la coppia si sposa a Novara ma da Milano a Novara fanno diverse tappe una la fanno a Vituone a Villaresta e l'altra la fanno proprio a Palazzo Brentano cosicché Giuseppe secondo imperatore ha l'occasione di vedere lo splendido finalmente lo splendido palazzo che il suo fedelissimo sta approntando gli fa notare che gli manca ancora un giardino degno di una insomma di un così bel palazzo insomma il confronto che lui può fare con il palazzo imperario di Schoembrun ovviamente posso certo sto rabbrividendo soprattutto perché il Brentano a quel punto una critica dell'imperatore non può dire niente dice provvederò quanto prima a dare lustro non sia mai non sia mai esatto succede però che anche questa visita degli imperiali non è proprio proprio diciamo indolore per il Brentano perché loro hanno fatto costruire in origine multa no in questo caso è le spese per il mantenimento di tutta questa corte 120 invitati forse era meglio vendere con cavalli annessi per fortuna la bellissima scuderia poteva ospitare 30 cavalli quindi era una bellissima e grande scuderia che oggi esiste ancora oggi anche se l'istituto l'ha convertita in una cappella oggi è un luogo di culto la scuderia del palazzo esatto insomma i Brentano decidono di avviare con questa grossa fabbrica anche un'altra attività commerciale cioè la produzione di bacchi da seta poi ne parleremo molto più avanti perché abbiamo dedicato una puntata proprio ai bacchi da seta però effettivamente decidono di iniziare a produrre anche la seta malgrado anche perché se no era un continuo pagare esatto tra multe mantenimenti quant'altro un'entrata questa casa esatto era un continuo spendere allora a un certo punto altro che l'IMU esatto ben altre spese infatti la della dell'IMU non è male la sottolineate con l'applauso perché quella dell'IMU va bene scusa Andrea prego Carlo Giuseppe ha però un'unica figlia Antonia chiamata come appunto il nonno che si chiamava Antonio e questa Antonia va in sposa a Pompeo Littabiumi che è un no scusa non va in sposa ho sbagliato è suo figlio praticamente sarà Pompeo Littabiumi che è uno dei più importanti storici degli inizi dell'Ottocento a Milano e sarà l'erede di tutto questo splendido palazzo con tutto quello che ne consegue perché anche Illitta che pure era una famiglia ricca però insomma mantenere tutta questa struttura non è facile a un certo punto Pompeo Littabiumi che aveva fatto era uno storico quindi era un posso dire che era un po' un collega soprattutto era un genealogista io ho già mi stupito che tu non l'abbia conosciuto di persone però va bene è un personaggio a cui sono molto affezionato perché ha fatto 115 genealogie delle famiglie più importanti d'Italia è diventato uno dei primi genealogisti qualificati a Milano ed è ancora oggi un punto di riferimento anche per noi storici e per gli... però gliela facciamo un applauso esatto si se lo merita se lo merita però la figlia di questo signor Brentano mi sembrava un po' la più furba detta proprio esatto esatto in modenese stretto perché poi questo Pompeo di Tabimi che è il figlio che eredita questo palazzo ha veramente l'idea grandiosa a un certo punto dice ma perché devo continuare a spendere perché non posso venderlo questo palazzo e infatti nel 1839 se ne disfa all'asta quindi lo vende all'asta tutto compreso palazzo pitture giardino e campo coltivato lo acquisterà la famiglia Carones che sono una famiglia di origini spagnole che però si era già stabilita a Corbet da qualche tempo e anzi avevano acquistato quella che oggi è nota come Villa Massari che si trova dietro il santuario e che tra l'altro era stata progettata anch'essa dal croce quindi loro a un certo punto si prendono in un colpo solo le due principali strutture progettate dal croce proprio in questo frangente a un certo punto il nipote di questo Giovanni Domenico Carones che si chiama Giovanni diventerà sindaco di Corbetta e sarà il primo sindaco dell'unità d'Italia dopo appunto la proclamazione del regno d'Italia nel 1861 quindi la famiglia Carones dal 1861 e fino ai primissimi anni del novecento rimane proprietaria di tutto questo splendido palazzo ma a un certo punto decide di venderlo anche ella perché quale? quello del Brentano? quel palazzo del Brentano esatto perché? perché mantenerlo costava veramente tantissimo riscaldare le sale interne attenzione decide di venderlo con annessa a questa attività che avevano già creato? sì 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 sostanzialmente con questa attività perché comunque era troppo costoso il riscaldamento soprattutto poi il mantenimento della struttura dietro gran parte del giardino era coltivato eppure magrado questo non si riusciva a far fronte alle spese l'acquista un radiologo di Milano il professor Italo Tonta che nel 1910 diventa proprietario di questa enorme struttura era un personaggio all'avanguardia tra l'altro uno dei primi a fare radiologia a Milano però anche lui dopo un po' riempie questo palazzo di mobili di oggetti importanti ma poi lo vende lo vende perché è troppo complicato da mantenere lo compra un altro corbettese guarda caso chi se lo aspettava ma chi se lo aspettava che fosse così esatto eh sì lo compra un corbettese un corbettese un po' un po' particolare perché dal 1929 diventerà quello che era diciamo il sindaco il raccomendatore Enrico Pagani il quale acquisterà questa bellissima struttura ma dopo qualche anno anche lui si rende conto che mantenere questo palazzo è estremamente costoso insomma questo palazzo nasce male e finisce peggio ma il commendatore Enrico Pagani fa atto a un certo punto una soluzione che spiazza tutti dice no non lo vendo perché se qui continuiamo a vendercelo è un problema i privati faranno sempre questa fine prima o poi se lo venderanno con l'altro allora nel 1935 ha l'idea dice io ho sentito parlare di un certo ordine religioso dei padri somaschi che si trovano nella zona del lago di Lecco e decido di donare a loro questo palazzo perché attenzione donare non vendere esatto lui decide di contattare questa congregazione dice io ho questo palazzo vi interessa volete stabilire qui a Corbetta un vostro centro per essere presenti sul nostro territorio questi somaschi accettano in cambio potremmo dire in cambio anche se non è proprio bello da dire difatti il comandatore pagani viene fatto commendatore dell'ordine di santi silvestro di santi silvestro appunto che è un'onorificenza pontificia su mediazione proprio dei padri somaschi e a un certo punto dal 1935 i somaschi si insegnano ufficialmente a Corbetta nel 1935 aprono un seminario qui a Corbetta quindi un seminario con indirizzo filosofico teologico questo ordine è un ordine che particolarmente è dedito all'insegnamento i somaschi ancora oggi tanto è vero che c'è una scuola quindi sono un ordine particolare che era stato fondato in Veneto nel 1535 da San Girolamo Emiliani il quale proprio nel corso del 500 porterà avanti questa assistenza ai poveri e soprattutto un'assistenza di tipo educativo cioè dare un'istruzione a chi non ce l'ha è vero ecco e i somaschi quindi arrivano qui e animati da questo spirito prendono il palazzo così com'è loro sono una congregazione quindi hanno comunque una forza per potersi mantenere le rette e soprattutto per poter mantenere un palazzo simile esatto esattamente le rette poi del seminario consentono di avere delle buone entrate quindi c'è la possibilità di poter formare dei nuovi sacerdoti quindi della stessa congregazione anche perché molti poi vanno a far parte della congregazione dei somaschi quindi è una bellissima opera e abbiamo anche delle piccole eccellenze in questo periodo in cui la scuola il palazzo accoglie questo seminario per esempio il professor Giovanni Ferro che era un somasco che poi diventerà arcivescovo di Reggio Calabria e oppure padre Giovanni Ceriani vabbè scusatemi ragazzi un applauso a questo uomo io glielo faccio perché adesso voi non lo vedete giustamente ascoltare la radio non lo vedete ma io che c'era da sta parte un appunto non lo legge va tutto a memoria va tutto a memoria giustamente lo resta in questo momento sta dicendo che non è vero ma invece io che lo vedo così complimenti Andrea grazie poi dicevo padre Giovanni Ceriani che era un sacerdote di Parabiago che ha fatto tantissimo per l'istituto perché ha fatto crescere questo istituto tanto è vero che il comune di Corbetta gli ha dedicato una via proprio tra l'altro non lontano da qui c'è proprio la via padre Ceriani dedicata proprio a questo personaggio è qui dietro però l'arrivo dei sacerdoti crea una situazione un po' curiosa e qui è bene dirlo perché è una curiosità che ho scoperto anch'io in questi giorni è una cosa anche molto divertente impara sostanzialmente si pone il problema di come fare ad accogliere gli studenti del seminario in sale dove ci sono degli affreschi con dei nudi perché questi affreschi erano raffiguravano episodi della mitologia e ovviamente questi personaggi molto spesso insomma qualche nudità la mostravano allora c'è qualcuno nell'istituto che ha la balzana idea di incominciare a coprire questi nudi con dei fazzoletti che vengono giuro io ci stavo pensando però non volevo dirlo l'ha detto lui esatto è una cosa curiosa però poi alla fine ci si rende conto che insomma qualcuno dice è arte l'arte è arte quindi anzi addirittura l'arte è arte dai Andre esatto esatto anche i primi mi sembra che fosse il primo rettore che a un certo punto dice vabbè ma in fin di conti quelli sono l'uomo e la donna come li ha creati Dio quindi di cosa dobbiamo vergognarci però per qualche moralizzatore questo era un problema e quindi si pensava di risolverlo così inoltre nel 1949 abbiamo la presenza di padre Antonio Rocco che è un personaggio un po' particolare perché è un personaggio che è un sacerdote che è originario della Basilicata ma che ha fatto tantissimo nella nostra zona è stato il fondatore per esempio dell'istituto Mater Orfanorum di Legnano che è una delle istituzioni caritatevoli più importanti sul nostro territorio ed è stato uno degli insegnanti proprio del palazzo di Corbetta proprio di Somaschi e per esempio ha donato le vetrate del santuario superiore noi quando andiamo al santuario superiore ci sono due vetrate con i misteri della Madonna le ha donate proprio lui come voto se Corbetta fosse stata risparmiata dei bombardamenti durante la guerra e quindi così fu esatto e lui rispettò pienamente ha donato le splendide vetrate che si possono vedere ancora oggi ma soprattutto negli anni difficili della guerra fu il primo a prendere una decisione molto coraggiosa il giardino che era incolto bene doveva essere coltivato e queste coltivazioni date alla popolazione di Corbetta cioè lui diede queste vetrate esatto perché comunque Corbetta ha come voto fuori sparmiato esattamente durante i bombardamenti esatto dai bombardamenti però diede anche questo obbligo esatto cioè dice io noi come Somaschi mettiamo a disposizione il nostro giardino perché le persone di Corbetta possano coltivarlo e possa questo grano che verrà raccolto perché o era a patto che no 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 perché cioè come concessione esatto lui diceva questo grano quello che verrà raccolto andrà a beneficio della popolazione loro avevano un terreno veramente notevole dietro il palazzo viene coltivato viene arato viene seminato e quindi fa anche del bene proprio per la popolazione di Corbetta ecco perché è un personaggio che nella memoria storica relativa al palazzo ma anche proprio del paese è rimasto abbastanza forte anche se ripeto non è molto conosciuto però è un personaggio che ha fatto veramente del bene poi nel 1956 viene in visita al palazzo l'arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini che poi diventerà Papa Paolo VI nel 63 lo so per dire io quindi un personaggio anche qui importante celebra la messa all'interno della cappella che era abbiamo detto le scuderie del palazzo quindi la inaugura si dice molto contento dell'opera che stanno facendo i suoi maschi proprio perché si sono inseriti comunque hanno perso un palazzo e certo si sono inseriti nel territorio anche in mezzo alla popolazione da quando sono arrivati i suoi maschi i corbettesi li chiamano i pretit cioè i pretimi perché erano tutti quasi giovani quelli che arrivavano qui soprattutto pensiamo c'era un seminario quindi dai 18 ai 23 anni di solito questi questi giovani sacerdoti e chierici e soprattutto incominciano a dare una mano al santuario celebrano le messe quindi si fanno conoscere in mezzo alle persone e incomincia questo bellissimo rapporto hanno apportato dei benefici sì sicuramente sì poi nel 1972 c'è un cambiamento ancora più strabiliante forse ancora più inatteso vale a dire che il seminario viene trasferito e viene aperta una scuola una scuola media una scuola media parificata che esiste ancora oggi che è l'istituto San Girolamo Emiliani dedicato appunto al fondatore dell'ordine dei padri somaschi all'interno dell'istituto qualcuno dice no non è possibile una scuola i ragazzini in questo palazzo eppure qui i somaschi credono in questa missione educativa ancora una volta e infatti realizzano questa splendida scuola che rimane operativa i primi alunni sono le prime classi sono 39 alunni quindi sono tre sezioni sono tutti maschili tutti maschi e sono tutti corbettesi per la prima volta nel 1972 aprono le prime scuole medie a Corbetta prima si andava poi a Magenta quindi non c'erano altre scuole nella zona di questo ordine è una scuola parificata quindi in parte privata ma di compromessi sul pubblico e poi nel 1998 verrà aperta anche una seconda scuola sempre all'interno dell'istituto una scuola elementare quindi una scuola primaria dedicata a Santa Gianna Beretta Molla che è un altro personaggio molto importante a cui i somaschi sono legati come del resto è legato nel nostro territorio dedicheremo qualche punta anche a lei immagino esatto esatto perché comunque è un punto di riferimento proprio sul nostro territorio ecco questo ci fa capire come il palazzo alla fine ha trovato una sua collocazione adesso lo vediamo splendido accessibile si può vederlo anche perché adesso sono cambiate tante cose sono aumentati moltissimo gli alunni che vengono molto anche da fuori quindi altre persone anche da molto lontano vengono a visitare Corbetta portando i figli a scuola quindi hanno la possibilità di vedere un luogo d'arte un luogo bellissimo io lo dico ma lo dico anche agli amici della radio io sono stato un ex alunno sono stato contentissimo di aver potuto andare in questo istituto perché sono stati tre anni bellissimi ed è stata un'esperienza molto particolare voi non lo vedete ma gli occhi lucidi si accia gli occhi lucidi tra l'altro mi permette una piccola digressione proprio quest'anno sono stato con un gruppo che ha voluto visitare proprio a Palazzo Brentano e sono rientrato nella mia classe quella che è stata la mia classe è stata una bella sensazione si bellissima soprattutto perché mi sembra che non fosse cambiato niente hai provato anche tu questa cosa il ricordo più bello è che io avevo la fortuna di avere una classe non è da tutti una classe affrescata cioè sopra avevo una fresco avevo una delle sale affrescate esatto quella è una di quelle che lui esatto esattamente era una camera da letto con i passoletti che erano stati tolti però ecco mi ha ricoportato dalla mente tantissimi tantissimi momenti per esempio c'era anche lui? quando quando per esempio si facevano i temi in classe o quant'altro insomma ci cercava qualche qualche ispirazione o qualcosa insomma levare lo sguardo e vedere queste nuvole questi personaggi che volteggiavano in un cielo immaginario insomma era una cosa veramente singolare quando diciamo non non apprendevi magari quella rivolgevi gli occhi al cielo e il cielo ripagava con un bella fresco esatto c'era veramente una si respira anche molto l'aria ancora oggi dei Brentano c'è molto l'impronta di questa storia soprattutto chiedo se di questi Brentano oltre che a respirarne l'aria e quant'altro oltre che ci sia qualcosa che richiama la memoria vengono ancora nominati vengono ancora tra virgolette un po' spinti nelle varie materie la famiglia oggi è estinta quindi di fatti non esistono però non c'è niente che rimane di loro quindi no di fatti hanno lasciato un palazzo qui un altro palazzo sul lago un'altra loro proprietà però di fatti poi sono finiti in mano ad altri privati quindi proprio della famiglia di discendenti diretti non esistono più sono diventati eredi altre famiglie che poi appunto hanno avuto modo di conservare questo patrimonio un ricordo che ho e che è connesso anche di Brentano è delle lezioni di storia dell'arte da noi erano una cosa semplicissima soprattutto quando affrontavi il periodo delle settecento semplicemente la nostra insegnante diceva guardatevi attorno perché quello di cui parliamo lo avete parlano da sole queste immagini esatto esatto quindi erano dei luoghi veramente significativi anche per quello non è facile immaginare una scuola dentro un palazzo antico così perché ci sono una serie di cose in cui bisogna fare i conti per esempio noi avevamo delle porte che erano del millesettecento e sono ancora lì quindi sono porte del millesettecento certo 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 che si aprivano a doppia battuta decorate in oro e avorio quindi sono delle cose non era proprio fare tante volte per esempio all'interno delle classi ci sono quasi tutte le stanze ci sono dei camini dei camini di marmo quindi era un luogo anche molto molto bello molto inusuale dove fare lezione ecco mi sarebbe bello poterci entrare magari a fare un giro più che volentieri guarda se vuoi ti accompagno anche perché è un luogo anche molto bello anche perché poi adesso è cambiato è diventata una scuola d'eccellenza anche perché è stata costruita una palestra quindi gli ambienti sono stati non ovviamente dentro il palazzo ma esternamente sono stati quanta gente c'è che ancora oggi viene solo per turismo fammi dire la parola turismo è vero e proprio proprio in visita in questi paesi in questi luoghi in queste quanta gente c'è ma a Corbetta sono parecchi gruppi almeno io vedo quelli che si rivolgono a me o che vengono anche in santuario beh in santuario c'è anche il discorso religioso quindi i fedeli sono molti di più però ci sono tante persone soprattutto magari da Milano oppure dai paesi circonvicini è capitato quest'anno un gruppo di legnano quindi zone persone che sono in zona che magari vogliono riscoprire un po' di più il loro territorio e tanti scelgono dico la verità Palazzo Brentano proprio perché è una meta particolare si presenta in maniera trionfante in maniera gloriosa è molto bella da vedere e poi ha una storia appunto dietro se lo può permettere esatto esatto quindi poi anche la disponibilità di Padre Somaschi comunque sono molto attenti anche nella conservazione di questo patrimonio che ripeto non è facile richiede anche proprio un'attenzione particolare non si parla più di mantenimento per favore basta allora va bene Andrea grazie per la tua comunque immensa sempre immensa gentilezza e disponibilità affinché noi si ci si illumini un pochettino di più riguardo certi argomenti e se non fosse per lui signori non si potrebbe fare vi diamo appuntamento alla prossima settimana con che cosa Andrea ok perfetto ci siamo noi vi diamo appuntamento settimana prossima ricordiamo che Pillole di Storia va in onda il martedì ed il giovedì dalle 12 le 13 dalle 21 le 22 stiamo valutando cosa vediamo poi vi faremo sapere grazie Andrea una buona giornata e una buona giornata a tutti voi che avete seguito la nostra trasmissione ciao a tutti ciao grazie a tutti